Va da moderato, cioè grado 2 su una scala di 5, ha marcato, quindi scala 3, il pericolo di Vaganghe sull'arco montano delle Florie Venezia Giulia, secondo quanto prevede il bollettino regionale. La neve caduta nelle fine settimana, dai 60 agli 80 cm sulle Alpi e 40-60 sulle Prealpi a 1800 metri, va velocemente trasformandosi a causa delle miti temperature presenti anche in quota. Sulle Prealpi ha prevalentemente piovuto, per cui l'emanto nevoso è presente quasi solo a nord. Sulle Alpi, oltre i 1700-1800 metri, è nata un'intensa attività di valanghe spontanea a tutte le esposizioni. Il pericolo è marcato sulle Alpi Giulia e Carni che è moderato sulle Prealpi.